www.faschandesign.com Milano offre arte e anche divertimento e unione di culture diverse. È una città dove ci sono molti stimoli per questi tipi di lavori. Ma la moda ha il gusto e il stile. La moda è creazione costante. Prende tutti indistintamente, chi più chi meno. Milano è una città molto interessante perché è una capitale di design, di moda di tutto il mondo. Studio fashion design. Interior design. Fashion design. Faccio fashion design. Per me la moda è uno stile di vita. Una filosofia legata all'estetica per la vita. Spero di fare la stilista. La grande voglio fare progettista, sicuro. Cosa voglio fare da grande? E... Cullanza. La ricercatevi se di tendenze. Scelto Milano perché è una città di moda. Milano significa moda. La moda, per me, crescendo in Israele e venendo qua, è un po' la possibilità di far incontrare diversi mondi. Ciao! Grazie a tutti.